Domanda, forse la saggezza della Kabbalah è per gli eletti? Si dice Rav, la saggezza della Kabbalah è solamente per pochi eletti scelti che hanno una sensazione che sono parte della rivelazione del creatore, ossia loro, loro stessi devono lavorare in questa connessione con persone che sono simili a loro, simili tra di loro, perché il creatore abbia un luogo per essere rivelato tra di loro e condividere queste relazioni con altre persone che non hanno questo chiesaron, che non hanno questo desiderio, non hanno questo chiesaron, non hanno una mancanza per questo, ossia per persone in questo mondo che sentono la necessità, il desiderio di rivelare il creatore, questi si chiamano Israel, Yashar Kel, diretti al creatore e il resto delle persone non lo sentono, non sentono questo, loro si sentono male nei loro gradi, inanimati, vegetali, animali, si sentono così, guardate, qui abbiamo il mondo, la gente, people, benei adam, persone, esseri umani, umani, e qui abbiamo Israel, Israele, questo, e quindi questi qua hanno un punto enorme nel cuore, loro devono connettersi e nella connessione tra di loro si rivolgono, si dirigono verso il creatore, che questo sia rivelato, diciamo che il creatore è qui, si trova tra di loro, così in maniera schematica, così è come li disegniamo, quindi loro sono in Gal Galta, Veinheim, in generale, e questo si chiama l'achap del cli generale, in nero, e pertanto Israele devono connettersi tra di loro e anche verso Gal Galta, Veinheim, devono occuparsi dell'achap e ricevere questo meno, questa parte negativa, loro qui sotto si sentono male, però non possono salvare se stessi, pertanto Israele hanno bisogno, devono fare un'azione, devono sentire la mancanza, i chissaron del mondo devono elevare questa mancanza di ritorno a se stessi, questo numero due, e devono aggiungere questo chissaron a loro proprie richieste, a loro richiesta al creatore, elevare il livello due, e quindi il creatore gli ritorna la luce, e quindi Israele si converte in, uniti in Gal Galta, Veinheim più Achap, i due livelli insieme, Gal Galta, Veinheim più Achap, e da questo Achap quindi lo ritorniamo alle nazioni del mondo, questo si chiama la luce sulle nazioni, la luce sopra le nazioni, or e goim, persone goim, goi in ebreo è nazioni, nazione scusate, all'uno, se Israele non realizza il suo ruolo, non lo fa, quindi Israele, che Dio non voglia, è cancellato, perché il suo ruolo è semplicemente connettersi con il creatore e avvicinare il creatore alle nazioni del mondo, Israele è come si dice? È nel mezzo, è il passaggio, è il condotto, è semplicemente un condotto, nient'altro, un tubo, questo è il suo ruolo, pertanto Israele si chiama il Rosh, se il Guff non lo vuole, se il Guff è disconnesso dalla luce, allora non è Rosh, il Rosh è solamente lì per questo ruolo, per questo tempo.